Arrivata la bufera, è arrivato il temporale, per Faustino si mette male, viva la rivoluzione, bum bum! Quanto l'ho reto portorecanati? Ma buongiorno! Buongiorno questo cazzo! Nooo! Ma perché? E perché dagli ha paura? Subito di mattina così? Sì, sì, a di uno! Ma come va che siete messi in fila? Eh? State sul treno? Tutti da me mi tocca vedere. Guardate che lavoro! Ah ok, mi mettete long line! Stiamo sulla casa dell'albero! Guardate che bella ragazzi! Ti piace a te? Bellissimo! La mia prossima vacanza sull'albero! Filippo, che uccello è questo? Questo è l'uccello paduro che vola? Che vola sempre all'altezza del bucio del culo! Sono tre facce di bronzo! Mimì! Mimì, cocco e cacu mucca! Mamma mia, quante cose ci insegna veramente! Guarda che qua sono un pozzo! È davvero! Sono un vocabolario! È un pochino porno questa! È otto che fa? È sto zozzone! Che faceva? Leva la mano! Eh? Almeno! Davanti alla gente! Almeno davanti alla gente! Leva la mano! Veramente! Sozzone! Si scherza ma ragazzi questo posto è stupendo! Cioè guardate! Curato in ogni dettaglio! Pazzesco! C'è anche la chiesina! Che dice la mano dai! Bello! Che dice? Dice che presto sarò ricco! Ma tu sei già... Però senza la mano! Ricco! Che spettacolo ragazzi! Questo posto è meraviglioso! Meraviglioso! Ogni volta che vengo vedo sempre cose diverse! Se non dovete venire per rendere conto! Filipe com'è sto posto? È meraviglioso! È da visitare assolutamente! Che spettacolo! Mamma mia! Qui ti rigeneri! Opa! Ma sudoku come sei messo? Benissimo! Eh? Benissimo! Ho imparato ieri sera! Non mi fai! No! Non mi fai! E non è vero? Ma solo questi! Fermite ma! Fermite! Non sta! Te! 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 Ce! Ma come mai c'è questi soldi? Ti! Ti la stampella! Come mai c'è solo questi? Fatti cazzo tu! Che bomba! Mi manca un po' guidarla, però sono belle anche le passeggiate. Ieri è stata anche presente nella caccia al tesoro. Che abbiamo vinto noi. Filippo, controlla quel signore che non ha alzato nemmeno la testa. Che sta a mangiare? C'è una dieta. Che dieta è? Questa è la dieta del pangino. Qual è? Un tiro nel pesco. Ah, è arzuga. A volte gli agenti atmosferici sono così veloci che nemmeno riesci a riprendere. Aveva nevicato, incredibile. Mamma mia, guarda quanto ha nevicato, riaprono tutti. Incredibile, gatto delle nevi, skip us, ski lift, moto slitta, cani da slitta, tutto aperto, incredibile. Che vuoi dire? Mamma mia, agosto una nevicata così non si è mai vista. Ma io perché dico la verna? Ma la verna c'è stato a San Francesco? Ma io ne so' stata, ma c'è perché c'è stato. Perché la verna che c'è? Ha visto qua. Allora faccio con lui, lui domanda la verna. Eh, ma io vorrei andare alla verna, ma tu vedrai che ti si infila, tolle coperte. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Vieni alla verna. No, già, già, che ci hai fatto, eh? Che ci ho fatto? Oh, noi facevamo. Dormiva. Ci ha fatto qualcosa? Ci hai messo qualcosa? Ma vaffan bagno, io ci ho messo, adesso mi fa. La verna. dormimo alzitela si dalle 6 che sei stata a fare un carta ai panettoni adesso sei bloccata questo ragazzo così concentrato adesso vi farà vedere una cosa è vero ancora non sveliamo nulla? chissà oddio 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 che è? che è? questo è del demonio abbassa la testa che sparono abbassa la testa che sparono no scalzo no chi è? o no che è? abbassa la testa che sparono che è? è l'elicottero o no? dimmi che è? è uno stronzo lo metti nooo nooo ce l'è ma quello mi ha detto mi ha detto se c'è se o c'è fè sai la casca ma tu adesso sei venuto o ti sono mandato? fai vedere tu sei sencato che la prendiamo eh beh che è? è andato su per il greppo di lì eh lo vedi lì è come un leone vero fatti? o no? fa il leone? e tu fa il coglione va 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 si è stroncicato tutto va andare lì di lì che cazzo si va a fare fuoco e ciccia come sei messo col sudoku? e se ne va sul luogo del dell'incidente dell'incidente ma cosa c'è poi? è caduto un alpinista da un netto alla bucciotto è caduto un alpinista un alpinista dal monte e adesso le guide alpine stanno curando l'alpinista l'alpinista il signor nonno Faustino ha qualche cosa da dire nonno Faustino eh? ditta che vuoi dire? o no? dice che che vuoi di? c'è qualcosa da dire? c'è qualcosa da dire? l'alpinista che vuoi di? che vuoi? vuoi che ci sia un quadrone un avventore come stai? beh come è successo? salivo di lì era arrivato quasi mi è partita la terra sotto i piedi c'è il breccino ne so che c'era brum e giù il piede sono cascato ma tu non so arrivato a piedi perché c'era il greppo lì quindi è rotolato è rotolato brum e sto arrivato di là ma a 93 anni queste cose le devi fare e cosa fa? che da fa? ho dormito ho letto e dormito ma le escursioni non si fanno? ma che camminavo di lì andavo da di lì volevano sopra di là ma ti porto io con la carrozzina no? sì con parte coglioni ci porto ce l'è per camminare stasera non abbiamo voluto inferire perché veramente l'alpinista 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 ha fatto la cosa ha fatto l'ascesa l'ascesa però ha mangiato anche stasera ragazzi tranquilli si è bufato come un bufalo americano che ha mangiato no? ha mangiato due pezzette di carne e una bruschetta e mezza fetta del vino e mezza fetta del vino e mezza chile sangice maaaaa vado vado l'alpinista ha fatto un'altra no te l'hai venuta tutta tu io tutta lui l'ha venuta una bottiglia piena eh l'alpinista l'ha venuta in alta quota mandalo da mandalo da guarda i capelli ostata uuuuuh guarda i capelli non si vuole comitare ahah ma lei lei non può se sssssssssssssssss finti del dottorossi n'è cazzo come è fino guarda che ti ho messo ma che è scema le ho messo le ho messo le ho messo me lo ha messo fa anche la finta incredibile eccolo chi appelo no come san michele come san michele incredibile come san michele arcangelo è la fine che accogliatura che ho fatto al nonno a spina a spina di pesce insomma vuole che in modo alzano e via le minacce no no me ne vuoi perché mi sono fico girate il profilo un attimo ma tu diverte da quello girate il profilo mamma mia che mamma mia guarda che t'ho fatto guarda che t'ho fatto guarda che a spina lascia la spina o mamma mia no 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 fai vedere il capello a spina di pesce senti lui che dice senti che dice senti che dice quello è cascata piccolo quello ti sei ripreso più guarda come te l'ho fatto a spina il capello ci basta che ti fermi come si è messa sudoku eh e qua come si è messo ho messo che mi ha rotto i coglioni non 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 non